I padroni di casa sono penultimi e hanno un solo punto in classifica. Gli ospiti sono primi a punteggio pieno e vogliono continuare la propria marcia. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti ad Arzignano Valchiampo e la Sverona, quinta giornata del campionato Under 14 Pro. Passiamo subito alle formazioni partendo da quella dei padroni di casa che si schierano con un 3-5-2 confermatissimo in attacco con il numero 9 Tira Pelle, autore di una doppietta purtroppo inutile ai fini del risultato, nell'ultima gara di campionato contro la Triestina. Rispondono gli ospiti con un 3-4-3, il reparto arretrato composto da Spagnoli, Falzoni e Varali avrà il compito di confermarsi la miglior difesa del girone. Bogoncelli alza la testa e trova un gran filtrante per Bisoffi che salta al portiere e calcia! Traversa piena! Casalini attaccato da Dallicani perde palla, il 10 poi la lascia a Tira Pelle che se la sposta e conclude. Tiro debole centrale con le mani spagnoli, effetto alla rimessa verso Bisoffi, aggancia di sinistro, poi si prende il fondo e la mette in mezzo. Cross debole che però viene svirgolato. Bogoncelli! Ringrazia e mette il pallone in porta, non è potente ma è precisissimo il suo sinistro, 1-0. Ha capito tutto Falzoni, tifosi e giocatori dell'Arzignano chiedono un fallo di mano, l'arbitro non è dello stesso avviso nel frattempo. Caputo in area, calcia! Gran risposta di Crestanello. Si avvicina Ledri per ricevere il pallone, il calcio d'angolo però viene battuto in mezzo verso Falzoni che sul primo palo la spizza e trova il 2-0. E' scattato Aprile che viene visto e servito con i tempi giusti, può correre il 14, palla al piede, arriva sul fondo, alza la testa, va in porta! E beffa Crestanello, cala al 3-0 il Verona con Aprile 3-0. Aprile che sulla destra sta seminando il panico, viene atterrato ed è calcio di rigore per il Verona. Tanzilli contro Crestanello, rincorsa cortissima del 7, che va col mancino e prende la traversa. Spagnoli in verticale da Cavazza che in scivolata lancia per i nonni, esce Crestanello, per i nonno scavalca! E il suo pallonetto finisce dentro, 4-0 del Verona. Guerra arriva sul pallone, non riesce però a servire per i nonno. La sfera comunque buona per Aprile che salta a secco un avversario, allarga per Mariani che conclude! E terza traversa del Verona. Spagnoli si prende il centro del campo e l'arbitro dice che non c'è più tempo. Continua il percorso netto del Verona che vince anche contro l'Arzignano con il risultato di 4-0.